Non solo cerimonia militare, non solo autorità civili e istituzionali. Il prossimo venerdì 2 giugno la Festa della Repubblica vuole essere festa del popolo e festa della gente. L'ha fortemente voluto il prefetto Emanuela Sevaerea Greco, che alla sua prima celebrazione chiama raccolta l'intero territorio ad onorare l'ordinamento decretato dal referendum del 1946. Sarà festa in musica con canti e balli che coinvolgeranno gli istituti Volponi e Pascoli di Urbino. Mi auguro che sia veramente una bella festa di piazza, di pubblico, perché la Repubblica siamo tutti. La Repubblica siamo tutti noi e io sottolineerò ognuno di noi cosa fa per la Repubblica perché abbiamo esempi bellissimi in provincia di enti, di istituzioni che fanno veramente bene il loro lavoro quindi è giusto che si sappia e sia dato loro il rilievo che meritano. Nella cerimonia saranno conferiti 21 riconoscimenti fra onorificenza al merito della Repubblica, medaglie d'onore e medaglie di bronzo al valore civile. Una festa del 2 giugno che vede come motore organizzativo l'esercito col 28esimo reggimento Pavia che ha realizzato anche il manifesto dell'evento. Siamo abitati a cerimonie un po' troppo formali, la cerimonia fa riferimento alla festa della Repubblica, alla festa della festa del popolo, non è la festa solo delle istituzioni, non è un momento solo formale, è giusto che ci sia un momento di sana popolarità ed è quello a cui contribuiremo anche distribuendo bandierine a tutti gli intervenuti, in particolare ai bambini che arricchiranno sicuramente la coreografia con un momento di allegria, non solo un momento istituzionale. I giovani saranno al centro della cerimonia, dagli studenti ai circa 300 volontari che si stanno rimboccando le maniche per riparare ai danni dell'alluvione. Quest'anno ha un sapore diverso chiaramente perché ci sono a Pesaro oltre 300 volontari che hanno dato disponibilità per aiutare le persone in difficoltà, che hanno bisogno, in questo momento alcuni di loro stanno spalando fango e aiutando a liberare cantine immobili invasi dall'acqua e questa giornata è dedicata anche a loro perché si percepirà ancora più densa, è ancora più forte la grande solidarietà che permea nel nostro paese, che quotidianamente viene spesa per le persone che hanno bisogno e che in questa giornata dobbiamo assolutamente ricordare e celebrare. Quindi abbiamo invitato e inviteremo i 300 volontari che hanno dato disponibilità confidando nella loro presenza perché a loro va il ringraziamento in particolare in questi giorni.